Luca Boldorini, vicepresidente della provincia di Macerata, segretario provinciale Lega Salvini. Un momento molto particolare, chiusura dell'anno, un convegno a Firenze. Di chi avete parlato con Salvini a Firenze? Abbiamo parlato dei progetti futuri, soprattutto proprio di futuro. Futuro indeso come il futuro dei nostri territori, il futuro della nostra nazione, il futuro dei nostri giovani e il futuro delle nostre identità, a partire da quella cattolico-cristiana, che deve essere punto saldo e fermo, alla tutela della famiglia, la famiglia con una idea ben chiara di famiglia, ovvero madre, padre e figli, così come è il nostro credo fondamentale. Abbiamo parlato di sviluppo, di rapporti con le altre nazioni, ma soprattutto di quel sentiment che deve fare breccia oggi nella comunità per capire che l'Europa, se conosciuta e se governata, è quella macchina propulsiva che ci permetterà nei prossimi anni di regalare veramente delle opportunità ambiziose ai nostri figli. Una provincia che in passato, come abbiamo più volte detto, è stata terra dell'armonia, Macerata, Macerata è provincia. Vicepresidente, è una provincia che non è facile da governare? No, è un territorio meraviglioso, è un insieme di tanti campanili, di tante sfaccettature, di tante mentalità, di tanti campanilismi che in questi due anni abbiamo cercato di smontare e di riportare tutto in una visione d'insieme. Certo, in due anni non è che si è potuto fare tutto quello che ci avevamo prefissati in mente, però abbiamo fatto un gran lavoro che già il prossimo anno, a inizi del 2024, vedrà risultati concreti anche dagli occhi dei cittadini. Abbiamo puntato molto, come avevamo in mente all'inizio, sulle scuole e sulla sicurezza, abbiamo investito quello che era possibile investire, parlo in termini sia di risorsi che di progettazione, su quello che erano le manutenzioni e le infrastrutture. Certo è che tanto dovremmo fare, ma tanto possiamo oggi ufficializzare che si farà, perché il lavoro più grande è stato quello di creare questa connettività con il Ministero e con la Regione capace di portare veramente un risvolto, un'attività di ridisegno proprio generale, quasi direi completo, globale, dell'intero territorio provinciale. Questo naturalmente a favore di chi in questo territorio produce PIL, benessere, crea posti di lavoro, occupazione, che è quella mission che permette a questi territori di poter sviluppare, di poter esistere e di poter ancora vedere dall'alto verso il basso le classifiche delle altre regioni italiane. E se c'è un piccolo comune vicino a Macerata, a Pignano, che può vantare imprese importanti, è proprio a Pignano che ha dato lavoro a tantissimi dipendenti e che ha ridato benessere a una città che era nata nel mobile, ma nel mobile si era persa. Pignano ha innumerevoli opportunità, lo dico da appignanese, lo dico da amministratore con mezza mente sempre concentrata e impegnata sullo sviluppo di Pignano. Pignano innanzitutto viene collocata in una posizione paricentrica dell'asse della Val Potenza e quindi della provincia di Macerata. Come hai detto tu bene, è popolata da industrie e quindi da imprenditori che grazie a Dio hanno superato più di una guerra, perché a partire dal Covid è la crisi del 2011. Il Covid, la guerra in Ucraina e oggi il secondo conflitto che si è venuto a sommare a quello che già di complesso si stava sviluppando in un'ottica di economia globale, possiamo dire che grazie a questi imprenditori a Pignano ha saputo mantenere quel warfare, quel livello di benessere che ci ha permesso comunque anche in un momento di regressione di poter mantenere quello che i cittadini con grandi sacrifici, soprattutto i nostri notti, le generazioni passate hanno costruito. Adesso però è il momento di guardare al futuro e di dare una visione di a Pignano ben chiara, concreta, con delle tabelle di marcia capaci da portare quella comunità da qui a breve al centro di tutto quello che si genererà nella Val Potenza. e quando dico genererà significa a partire dal turismo, a partire dalla nuova imprenditoria, a partire dall'agricoltura, a partire soprattutto dall'assistenza sociosanitaria che è quella fondamentale e oggi penso essere l'unica priorità per una popolazione che è sempre più invecchia e questo ce lo dicono i dati statistici. L'altro filone che va perseguitato è quello invece di porre fine alla denatalità. Dobbiamo ritornare a fare i figli, dobbiamo ritornare a fare i figli italiani e quindi abbiamo tutti la responsabilità per farciò di sostenere i giovani nel creare una famiglia, nel potersi creare un loro ambiente familiare confortevole, garantito non da approfissionamenti a cascata, a caduta da parte del governo come è successo con il reddito cittadinanza, ma riportarli ad una educazione al lavoro, riportarli su una logica di merito, meritocrazia e soprattutto di autosostendamento. Cioè ogni persona deve essere responsabile che è un diritto sacrosanto come ne abbiamo tanti altri quello di costruire una famiglia, quindi di dare un futuro ai nostri territori, alle nostre culture, però è altrettanto diritto fondamentale prendersi la responsabilità che solo con il lavoro e con le capacità personali si possa dare vita a una famiglia, far crescere dei figli che a sua volta domani potranno interascire con le nuove generazioni e procreare in maniera tale che tutti i nostri territori, tutte le nostre comunità andranno disperse. Un ruolo principale per questo naturalmente spetta alle amministrazioni comunali, alla politica, dico io quella con la P maiuscola, in aiuto con naturalmente la Chiesa e i cittadini stessi perché dobbiamo veramente, io conto e sogno, non solo un appignano del futuro, ma una nazione del futuro capace di potervandare una generazione futura italiana con le eccellenze eredi di competenze e capacità di tutte le eccellenze italiane che ci hanno reso fino ad oggi orgogliosi di essere italiani perché ci hanno portato in vetta le più grandi classifiche di tutto il mondo. Un saluto natalizio a tutti gli ascoltatori. Siamo alle porte del Natale, quindi è ovvio che adesso, nonostante tutti i problemi che rimandiamo nell'affronto al 2024, possiamo dire diversamente dall'anno passato e questo deve rendere felice a tutti e deve far fare una considerazione che forse il gioco di squadra ha portato a dei risultati perché mentre l'anno scorso volevamo a tutti i costi lasciarci un 2022 orrendo alle spalle, quest'anno del 2023 possiamo dire che non serve buttare via tutto, anzi, manteniamo e custodiamo gelosamente quello che abbiamo costruito, passiamo un santo Natale e delle sante festività tutti quanti insieme nel nome della fede che ci rende tutti quanti sullo stesso piano e sullo stesso comune denominatore per poi dopo auspicare un 2024 di continuazione su quanto è stato fatto e soprattutto di riprenderci quello slancio che ai nostri territori ma soprattutto a tutti i cittadini serve per poter guardare, ripeto, in avanti con certezza, con determinazione ma avendo ben precisi gli obiettivi da poter perseguire. Grazie Luca Boldorini, vicepresidente della provincia di Macerata, segretario provinciale Lega Salvini Premier. Grazie a voi, buon Natale e buon anno.